Allora ragazzi, tutti conosciamo le fantastiche proprietà dell'olio di nimme quando noi lo diamo per via fogliare, ci facciamo i trattamenti sugli ortaggi e sulle piante da frutto, ma la domanda è ma io lo posso dare per via radicale, ci posso annaffiare le piante? E se la risposta è sì, che cosa mi deve aspettare, quali sono i benefici che la pianta riceve ed eventualmente quali sono le dosi e gli intervalli per cui io posso trattare la pianta, ossia annaffiarcela, beh mettetevi comodi, perché la risposta innanzitutto è sì, e adesso vi spiego tutto per filo e per segno, uno spettacolo ragazzi. Vanno bene tutti gli oli di nimme? Assolutamente no, l'olio di nimme deve essere non OGM mi raccomando, deve essere chiaramente estratto a freddo, perché ci sono anche gli oli di nimme estratti a caldo e quelli vanno a degradare l'olio di nimme, quindi i principi attivi e le proprietà vanificano, poi deve essere chiaramente filtrato su carbone e per ultimo, ma non per ultimo, non deve essere denaturato, ossia deve essere lasciato con le sue proprietà e i suoi benefici. Gli oli di nimme che io utilizzo qui nella vecchia fattoria hanno tutte queste proprietà, quindi su questo potete andare tranquilli, quindi se utilizzate l'olio di nimme gold piuttosto che l'olio di nimme normale potete seguire questo video, gli altri, guardate la scheda tecnica, possono benissimo magari essere utilizzati, l'importante e vi ripeto non OGM, estratto a freddo, filtrati su carbone attivo e non denaturati, semplicissimo. Viene con sé che siccome l'olio di nimme è anche un potente, repellente a molti principi attivi, se viene dato per via radicale, allontanerà dalla pianta da frutto o dagli ortaggi tutti quegli insetti che sono dannosi, quali sono? Facciamo un po' un riepilogo veloce. Il ferretto della patata, addioci guardi se abbiamo un terreno pieno di ferretti, le patate non le raccogliamo, le troviamo tutte forate, ecco annaffiare le patate con questo olio di nimme ci darà davvero una marcia in più, ma su tutte quelle piante da orto, che sono attaccate dai nematodi, lì davvero ha un ottimo effetto, avrete delle piante davvero fresche e rigogliose. Però ragazzi il bello è questo, che non tiene lontani i lombrichi, a loro non fa nulla e quindi è davvero un ottimo prodotto dato per via radicale. Che cosa mi devo aspettare una volta che la pianta lo assorbe dalle radici? Riesce a potenziare le difese immunitarie, le difese naturali che una pianta ha già per conto suo. Ricordiamoci che la pianta già riesce a difendersi un po' dagli attacchi degli insetti, ecco che quest'olio di nimme con le sue proprietà, con i suoi benefici, riesce a, diciamo così, a potenziare le difese immunitarie della pianta. E' come un po' quando si avvicina all'inverno, noi per non prendere il raffreddore siamo ad assumere la vitamina C mangiandoci delle arance, ecco è la stessa cosa, aumentiamo la vitamina C, l'olio di nimme fa lo stesso effetto sulla pianta, gli aumenta le difese immunitarie. Ecco che sulla pianta si ha questi effetti benefici, cosa mi devo aspettare? Innanzitutto sulle piccole larve che vivono all'interno delle foglie, ragazzi minatrice del limone o serpentina come la vogliamo chiamare, e la tuta absoluta sul pomodoro che vedete che all'inizio fa quelle minuscole gallerie e poi ci fa buttare interi raccolti, ecco siccome quelle piccole larve sono davvero piccole, se la pianta riesce ad essere più resistente, più pronta a questi attacchi, vedrete che avrete una pianta più sana. Anche contro tutti i piccoli insetti succhiatori è chiaro che riesce a difendersi meglio, quindi gli attacchi degli afidi, le psille, le cocciniglie cotonose o la cocciniglia scudetto, i tripidi, insomma trovate davvero beneficio su tutte quante le piante, ortaggi o piante da frutto. Immagino che mi volevate chiedere, Pier Giorgio ma il gusto dei frutti o degli ortaggi cambia? Assolutamente no, ci mancherebbe altro. La dose ragazzi ce l'avete qui in etichetta, non vi potete sbagliare, sono 10 ml ogni litro di acqua. Che fate? Facciamo un esempio, un bel secchio da 10 litri e ci versate giù 100 ml di olio di nime e mescolate bene. Poi per gli ortaggi ragazzi prendete 200 ml di quest'acqua e olio di nime e la date all'ortaggio nelle radici, fate finta che state annaffiando, vi potete regolare così, scusatemi, un bicchiere lo prendete, zac, nelle radici della pianta. Per le piante in vaso, un vaso da 30 da 40, sono 100 ml di questa soluzione, quindi prendete mezzo bicchiere e lo versate nel vostro vaso. Fatto questo poi procedete alla regolare annaffiatura. La distanza tra un trattamento radicale e l'altro trattamento sono di 20 giorni, quindi fate questo trattamento una volta, lo potete fare dopo 20 giorni, il successivo, non ci possiamo sbagliare. Per le piante, non gli ortaggi, da frutto più grandi, e lì dobbiamo un po' regolarci noi, distribuiamo bene con l'innaffiatoio sotto la chioma, quindi faremo un po' di terreno bagnato e una volta che abbiamo fatto facciamo l'annaffiatura, in modo che penetra verso le radici, ma poi vi do un'altra dritta. Se prendete questo di olio di neem, l'olio di neem nutrizione, ragazzi, avete il doppio vantaggio, quale è? Siccome qui all'interno di quest'olio di neem sono stati aggiunti degli elementi nutritivi, avrete un doppio effetto sulla pianta quando lo date per via radicale, 1 aumentano le difese immunitarie, 2 avete anche una concimazione per via radicale, la vostra pianta crescerà su bella, fresca e rigogliosa, è meglio di così ragazzi, si muore. Quindi ripetiamo i concetti, olio di neem deve essere sempre in un OGM, deve essere estratto a freddo, deve essere filtrato sul carbone, non deve essere denaturato, una volta che avete questo olio di neem lo potete dare per via radicale, la dose è sempre quella, 10 ml ogni litro di acqua e questa miscela, questa soluzione si dà 200 ml sugli ortaggi, 100 ml sui fiori e sulle piante adulte, ci dobbiamo un po' regolare noi. Una volta che abbiamo distribuito con l'annaffiatoio questo olio di neem sul terreno, dobbiamo fare subito una bella annaffiatura in modo che lui penetra nelle radici e se penetra nelle radici terrà lontani tutti quegli insetti che vivono a spesa delle radici, il ferretto sulle patate, piuttosto che tutti quei nematodi che vanno a punzecchiare le radici e ci rovinano la pianta, le larve terricole, non fa male però a tutti quanti i lombrichi, una volta che la pianta lo assorbe delle radici aumenterà le difese immunitarie stesse, quindi per tutti quegli insetti che vivono a spese della pianta sarà una vita difficile e quali sono tutti quegli insetti succhiatori e masticatori, insomma avremo una pianta molto più bella e molto più forte, il dimme nutrizione aumenta gli effetti di raddoppi perché avrà anche una concimazione da dare alla pianta, la pianta crescerà su più bella, più fresca e più rigogliosa. Ragazzi mi raccomando sempre in gamba, prodotti bio, un abbraccio a tutti, noi ci vediamo alla prossima, iscrivetevi, condividete questo canale, un saluto da Pier Giorgio, ciao ciao ciao!